Il Veneto Nord-Est ha delle caratteristiche sue secondo me, specifiche proprio non replicate e probabilmente non replicabili anche nelle regioni più vicine, anche molto simili per tanti versi. Direi che il Nord-Est, questa è una cosa già detta cento volte, risaputa, è stata la regione italiana che in minor tempo ha avuto il maggior cambiamento, ha attraversato il maggior cambiamento. Nelle persone della prima generazione, cioè in coloro che hanno materialmente compiuto il salto, quello che io vedo è soprattutto una sorta di furore, cioè il ricordo dentro di te, espresso o non espresso, nascosto o esibito, di quella sofferenza iniziale porta un furore nel lavoro, porta un furore nell'agire proprio nei giorni. È come se stessero ancora correndo e per sempre correranno per uscire da quella zona dalla quale sono partiti, non riescono a smettere di correre. Per venirne fuori hanno dovuto accelerare moltissimo, non riescono più a smettere quell'accelerazione perché ormai è diventata il loro passo. Forse uno dei veri dati proprio che definisce davvero e che non ha eccezioni l'imprenditore del Nord-Est è che l'imprenditore del Nord-Est non ha mai amici, mai, i loro rapporti ci sono, ci sono, ma sono rapporti che si disegnano, si costruiscono e anche a volte si sedimentano intorno al fare. Mediamente sono in cantiere o sono in azienda prestissimo, prima di tutti, mediamente tornano a casa tardissimo dopo tutti gli altri. Lavorare 20 ore al giorno, 18, insomma lavorare sempre ti semplifica la vita. Tu non hai tempo per le relazioni, non hai tempo per le vacanze, non hai tempo per nessun'altra cosa, ti copre le spalle. Non avere rapporti sociali, non avere interessi, non avere… è tutto giustificato da questa prestazione costante. Quando io ero ragazzino alle scuole elementari non si diceva il Nord-Est, si dicevano le Tre Venezie. Passano tutto sommato un tempo anche risibile, 15 anni, e dalle Tre Venezie, in un modo quasi automatico, senza che ce ne siamo neanche accorti, le Tre Venezie sono trasformate nel Nord-Est, quindi alle Tre Venezie, tre femmine a il Nord-Est, cioè maschio, virile, determinato… ovviamente questo passaggio anche proprio semantico, quindi è cambiato il nome con cui chiamiamo la nostra terra, tant'è che terra è divenuta territorio, quindi il territorio del Nord-Est. L'identità è nuova, è cambiata, probabilmente è cambiata perché sono cambiate le premesse, sono cambiati i rapporti, come dire, da quelli individuali a quelli collettivi a quelli che poi determinano una civiltà. Tant'è vero che non avendo più la città devi inventarti la città diffusa, capito? Te la devi inventare, l'urbanoide in espansione, ma non la città, non ce l'hai più la città, non hai più la Gorà, non ce l'hai, e quindi siccome non ce l'hai provi una grandissima sofferenza, un grande spaesamento, un grande disagio individuale, collettivo, no? E quindi hai bisogno di inventarti simboli in qualche modo rasserenanti, rassicuranti, che ti dicono che ancora quella cosa ce l'hai. Il Veneto, forse più di altre terre, ha scontato questa, come dire, devastazione sia paesaggistica, ma prima di tutto identitaria. Una mutazione antropologica, ma non poteva che essere così. Ora il tema è, chiaro che l'umano cambia, gli scrittori dovrebbero, come dire, come grilli parlanti lanciare l'allarme, no? Prima della contraerica, dicendo attenzione, attenzione, fermiamoci, che qualcosa di irreparabile è successo, perché il problema è che si nutre un amore disperato verso l'umano, e quindi quando l'umano si percepisce in pericolo lo si vorrebbe salvare. E quindi capanoide e femminina non è una forma dispregiativa per cercare di portare all'inferno questa gente. È il modo forte, come dire, anche fastidioso, per certi versi, per chiamare l'appello ancora l'umano. Ecco, l'umano. Ciò che non è riuscito a fare, diceva Pasolini, la civiltà fascista lo ha fatto la civiltà neofascista della città del consumo, che ha trasformato l'uomo in un corpo.